Scusa, purtroppo non ho sentito i primi interventi, quindi spero di non dire cose che sono già state dette. Ti rivedo con piacere Roberto, rivedo tutti voi e gli amici e i compagni con cui abbiamo fatto l'esperienza dell'altra Europa con Sipras. Ringrazio gli organizzatori, la compagna Loredana Marino che mi ha contattato, anche il greco che abbiamo lì a Salerno, Andrea Sandreo che oggi ha il Covid, a cui facciamo tanti auguri di pronta guarigione, per questo non può essere là con voi. Io mi rifaccio al titolo del panel naturalmente e provo brevemente a parlare prima di una strategia con una breve premessa e poi ad identificare quelle che sono state, che possono essere le lotte unificanti. Nel picco del neoliberalismo nel 2009, che poi fu anche lo slogan, il motivo che animò la nostra esperienza per l'altra Europa con Sipras nella sua versione modernizzatrice, il neoliberalismo, è il centrosinistra che ammiccava al neoliberalismo con la rottamazione, la modernizzazione, penso a Blair, Renzi, Gonzales, Simitis in Grecia. Quando diventa egemone lo slogan non c'è più destra, non c'è più la sinistra, che poi sappiamo tutti si è rilevata una grande bestialità che non ha fatto altro che aprire la strada alle forze eversive. in tutta Europa della destra eversiva. Allora qual era la promessa? La promessa era apriamo i mercati, arriveranno gli investimenti stranieri, avremo più posti di lavoro, mandiamo i nostri figli, i nostri giovani a studiare al nord, a Londra, management e marketing e così vi assicuriamo la mobilità verticale. Questo significava naturalmente strizzare l'occhio alla classe media. Ci dicevano state buoni, state tranquilli, certo ci saranno meno posti di lavoro nel tessile o nel metalmeccanico, ma la classe media ci guadagnerà nella scala sociale. Tutto ciò è ovviamente stato smentito dalla storia, anzi non solo provocò la marginalizzazione della classe dei lavoratori, ma anche la pressione, la marginalizzazione e l'impoverimento della classe media, perché provocò l'aumento delle diseguaglianze in tutti i campi, è questo quello che dice Picchetti nei salari, nella distribuzione della ricchezza, nella marginalizzazione della periferia, nel sud quindi, nell'accesso ai diritti sociali, educazione, la cultura, i servizi in generale. Ed era il sistema economico basato, cioè il sistema economico che vive sulle diseguaglianze, che portò alla crisi finanziaria del 2009, che poi divenne crisi del debito, oggi crisi energetica, crisi ambientale, crisi geopolitica e crisi della stessa democrazia. Qual è l'elemento unificante? Quindi andiamo al punto. Intanto furono i movimenti delle piazze nel medidione d'Europa. Penso all'indignados a Barcellona, dall'Al Cairo in Tunisia fino ad arrivare ad Atene. I giovani, i nostri giovani andarono a studiare al nord, andarono a studiare management a Londra, però tornati ad Atene o a Palermo si sono ritrovati a servire ai bar o a lavorare alla bottega del papà. Dunque, cosa possiamo fare noi a sinistra? Tutte queste crisi finanziaria, climatica, dimostrano l'importanza, riportano di attualità l'importanza dell'intervento pubblico, di politiche collettive e cooperative, che sono l'obiettivo a medio termine. Perché dico a medio termine? Perché per arrivare dal momento che la gente non ci crede più, è importante passare da azioni concrete, da soluzioni visibili che toccano la quotidianità degli abitanti per affrontare le diseguaglianze. Adesso passo all'esempio che la cosa di cui mi sto occupando in questo momento per Sirisa è con l'Alleanza Internazionale degli Abitanti, che è il diritto all'abitare, il diritto alla casa. In questo momento la crisi abitativa in Europa, se collegata alla crisi energetica a quella climatica, è una delle più visibili e che coinvolge milioni di persone in questo momento in tutta Europa. Aumento degli affitti, aumento esponenziale degli sfratti, dei pignoramenti della prima casa, non ci sono più investimenti pubblici per la casa, ad eccezione di qualche esempio storico come Vienna, Berlino e comunque parliamo del Nord, si lascia a campo libero la gentrificazione, turistificazione, Airbnb, eccetera, eccetera, togliendo spazi agli abitanti. Questa crisi sta colpendo gravemente la Grecia, Atene in particolare, così come colpisce e ha colpito Lisbona, aggravata dalla crisi finanziaria, dalla pandemia naturalmente. In realtà l'Europa si è accorta, le istituzioni europee si sono accorti di questa crisi, hanno dato qualche strumento da utilizzare anche finanziario in questo senso, come il PNRR, che però non è stato utilizzato, non sempre è stato utilizzato ai governi in questo senso. Dunque, io penso che la lotta per la casa, che è un esempio, ne potremmo trovare assieme tanti altri, c'entra anche naturalmente col Mediterraneo, perché le tematiche abitative riguardano soprattutto tutte le sponde del Mediterraneo. E abbiamo avuto in questo senso ottimi esempi unificanti. Penso alle piazze a cui facevo riferimento prima, ad Acolau e la piattaforma delle vittime dei mutui. Esempi, c'era prima Riccardo Fedrella, che purtroppo non ho potuto sentire, la sua proposta sull'identità mediterranea, l'identità mondiale è stata ripresa anche dal forum degli abitanti a Marsiglia lo scorso anno. Esistono in questo momento in Europa, tantissimi esempi di unificazione, di lotte per la sicurezza abitativa. Da Marrakesh fino a Marsiglia, dopo la decina di morti che ci sono stati per gli edifici fatiscenti, le lotte per la regolamentazione degli affitti a lungo termine, cioè l'Airbnb, la campagna Sfratti Zero, che ha una sua giornata e si tiene ad ottobre, a cui vi invito di riflettere anche a sostenere questa battaglia comune, e le industrie di morte nelle città costiere per l'inquinimento industriale. Anche in questo senso si sta creando una rete, penso a Taranto, Siracusa, come Gabesh in Tunisia. Il movimento per il diritto alla casa in questo momento sta cercando, anche collaborando con partiti, autorità locali, sindaci, di trovare dei punti d'incontro a Marsiglia nel 2019. Abbiamo firmato un appello tutti per la creazione della rete degli abitanti e del Mediterraneo. Per concludere, perché è anche finito il tempo a mia disposizione, ho voluto fare questo esempio, di cui mi sto occupando quasi a tempo piano in questo momento, perché il diritto all'abitare contiene in sé tutti questi elementi che ci danno una strategia e una finalità a breve termine, ma anche a lungo termine. Ha una finalità a medio termine per la ricostruzione di una piattaforma comune della sinistra, ha una funzione paradigmatica perché dà l'impronta di una società più cooperativa e più socialista, quindi, e costruisce una sinistra che non solo dice, ma che anche fa altro. Io spero che ci siano anche altre occasioni come queste, utili per scambiare idee e per ripartire tutti assieme. Grazie. Grazie.